Si è appena conclusa al Massimino la seduta di rifinitura del Catania in vista della sfida di domani al Crotone e l'esordio in Coppa Italia Serie C per quest'anno della formazione rossa-azzurra che detiene il trofeo. Mister, al termine della rifinitura quali sono le sue sensazioni? Dopo un periodo di turbolenze, qualche schiarita c'è stata, i ragazzi si sono allenati bene, con intensità, con concentrazione, con applicazione. La testa in questo momento è la cosa più importante e loro ci stanno mettendo tanta applicazione. Sappiamo che non saremo al meglio rispetto alle previsioni inizio stagione perché oggi dobbiamo fare i conti con dei paletti e con dinamiche di mercato che tutte le squadre che vogliono rifondare o cambiare qualcosa rispetto alle annate precedenti non brillantissime devono fare i conti anche con queste dinamiche. Ci auguriamo che le cose si sblocchino prima possibile, però devo fare i complimenti ai ragazzi perché stanno lavorando bene. So che il direttore sportivo e il presidente stanno lavorando 24 ore su 24 per rendere la squadra più competitiva rispetto all'anno scorso e regalare più soddisfazione possibile ai nostri tifosi che ringrazio, ho avuto l'occasione di ringraziarli per la trasferta di Chiaveri perché vedere tanta gente venire a seguire la propria squadra a tanti chilometri di distanza non si vede da tutte le parti. Sappiamo che abbiamo un pubblico catanese che in questo periodo è iniziato a conoscere bene, molto attaccato ai propri colori, alla propria città, alla propria terra lavoreremo per far sì che loro si possano riconoscere in campo per quello che darà alla squadra. Il nostro obiettivo è quello di dare sempre il massimo di noi stessi, di dare tutto, di provare a vincere con chiunque, di lottare su ogni palla, il sacrificio, la determinazione dovranno essere le nostre prerogative. Potrà contare sui calciatori ingaggiati nel corso della sessione di mercato estiva? Sì, è la prima partita che possiamo utilizzare i nostri nuovi calciatori, sarà la verifica prima dell'inizio del campionato, l'inizio del nostro nuovo percorso, del nuovo viaggio e vogliamo capire a che punto è il nostro livello di preparazione al campionato. Affrontiamo una squadra importante, blasonata, che vuole far bene anche loro in questo campionato, quindi sarà una verifica molto probante. I ragazzi sono concentrati, ho detto di andare alla ricerca della prestazione, perché attraverso la prestazione può arrivare il risultato. Quello che si nota è anche che c'è grande concentrazione, ma è il giusto entusiasmo, si lavora faticando tanto ma col sorriso. Ma credo che poi la testa, la concentrazione facciano la differenza nel calcio di oggi. Il cosa fare, avere quelle idee chiare, il cosa fare, come farlo con la giusta attenzione, una determinazione con il giusto ritmo, con la giusta intensità e avere una grande resistenza mentale alla lunga fa nulla differenza.